Mi sverifici magari su qualche gioco che è competitivo su PC Niko sotto, Niko sotto la casa, Niko sotto la casa Quale casa? Ti piace, non è bello Cane Comunque lo giuro, questa c'è storia perché è Cristo, Dio Cane pazzo Ho dato il cazzo al pane pazzo Oh bella da Ma sempre finire così quello sciogliere in roba E' figato il car 98 Ma si è sciogliata Tu non è stato, è giottato qua? Io non ho mai credito Zazza che è tentato a prendere qualcosa Ogni cosa che dici Zazza avrà messo un infame comunque Ma ancora questa storia? Sì, no, come? Bella, ma c'è, bella Samu Io t'ho detto domenica se ci stavi domenica ero disponibile e tu non c'eri Disponibile cosa? Che sei andato a fare un cazzo, se? Senti, io non ho rimasto solo la mattina lì a Luca, quindi Non avevo detto Zazza, ma con l'infame non è venuto Zazza lì a fare Vabbè, ehm, ehm, i girettini Scusi Ma che girettini? Eh? Vabbè? Fatto il field Ma veramente, non ho mai detto nessuna questa roba Sono un basso così Ha fatto l'infame non è venuto Oddio, rincula troppo comunque accessorata così questa Ma non va bene Io... Io... Scusi Scusi Non si muore Non si muore In giacchette Scusi, Nico, non lo dico più RG Squadra con me È giusto che... Non hai RG Questa squadra abbia un punto di riferimento importante Ivan Grieco Ti piace questo cecchino? Beh, il problema Immagino, Braga, no Mi piaceva Tutto ne venti Tutto ne venti No, duecento trenta Per me non l'hai giocato Non l'hai giocato Non l'hai giocato Cosa ha fatto il gatto? Non so perché quel gamer, onestamente Ora me la gioco qui col cecchino, raga C'è che ha chiamato Lario? Io no perché non ho le stick Io gioco quelle... Nico, non hai l'attac... Non l'im... Non l'im... Nel nome... Cioè, ce l'ho io e non ce l'hai tu? Ti devo... ti devo obbligare? O lo fai così una volta? Oddio, possiamo sconti sto cotto Guarda che player No, è solo tu un infame Grazie Raga... Esulta per tre pit Questo tipo... Che ho fatto... Tipo 100 Oh! Oh! Raga... Mi ha fatto salire la reaction, cioè Eh... È un terzo di goliador Oh, mi fai bene Stavo scherzando perché la tua reazione era tipo... Eh... Sono in stricco Sei Johnny Creek Non ho capito Hai detto sei Johnny Creek Sì Ho iniziato lo spam di... This is nuke Che nemmeno esiste come cosa ma... No, quindi se dove sono i nemici? Raga, comunque quando vai in specialista ti da tutte le abilità per l'arma Ve lo giuro perché ricarica stra veloce Sì... La ricarica della dama Ma infatti io perché non è una specialista? Non sparare Tu sta giocando che hai delle uccisioni Eh... Non è alleato, attenzione! No ragazzi, mi dobbiamo tenere munizioni Quest'arma così... Non hai delle munizioni per me? Non è Cristo, è Dio, Cristo, la Madonna e Giuseppe Sì... Ve lo giuro oggi l'ha hitta sta nuke Ma perché lo giochi col mirino e mi guarda? C'è la cannoniera Sono delle muniz Tanto morirà da un Matteo Pulici Uno che gioca il code a caso e mi ammazzerà sicuramente No, Matteo... Ho finito i colpi Morirò da un Matteo Pulici e mi è uscito È diventato in pure categoria negativa Quante non parla Dico, danni a cambiare l'ambulante Siamo a bordo io quindi no Ehi-hè-hè-hè Ehi-hè-hè-hè Ricordatelo Che potresti morire No, no, ricordati Se ne sono un po' divergente Ma ragazzi, ma questo cazzo di munizioni perché non le do Ragazzi, siamo a 15 eh? Siamo a 15 Guarda questa arma quanto è forte Ah, ma devo tenere premuto, ma sono un coglione Ma morirò? Non ho dimenticato, perché sulla play ci farti sopra un uccasso Spero sempre da qua morirò, 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 morirò e... Dunque è già tua, credo Oh cazzo Mi serve uno di quelli spawn che proprio ti danno... Porca puttana, mi ha fatto un colater al sparando a un altro, raga, ma stiamo scherzando No, io non ci posso credere, raga, te lo giuro non mi avrà manco visto No, no, mi stai spingendo tipo lo scontro del moneta Ma gli dici? Ma l'hai visto come sono morto? Non è morto A sparare all'altro Grazie mille, Giorgione Con quello che ho fatto dei bit, ma non posso guardarle Canevanto Dico sulla casa di sinistra Grazie, Giorgione No, Matteo, come sulla casa di sinistra? Cosa? Dovrei muovirmi da qua Non ci sta come arma, ci sta Dai, ma poi la Giorgione, raga, ve lo giuro No, la qua, guarda, sto dietro Ve lo giuro Ok, è forte il carino, io non lo uso, però come lo uso in... Eh, ma non so In guerra... Cioè, scusa, in scontro mi piace Matteo, quelli... Non posso ucciderlo, Matteo, quello È un follower, mi ricercamente, ha messo un follower al mio canale Follow, follow C'è un altro, Matteo, c'è un altro, mi sa Eh, lo so No, un cosa è il follow Ok, lo vedo Uccido un altro, Ligo Uccido un altro, Ligo No, Matteo, mi sono suonati qua Bersaglio indicato, si incendere Ah, Dico, sono troppo, non li trovo Quello è un elicottero nemico Ma dov'è che sono questi, Dico? Non lo so, non ho più l'UAB, avete un UAB? Cioè, non è che sto giocando lento di più Ehm, fai bene giocare lento, è così che si gioca su sto gioco Ricarico Sono a 25 Ho messo uguale munizioni Non t'è bello Se vuoi baciare, non se vuoi baciare Raga, non rispondo in chat perché sto in streak, cioè, se mo io lo bestemmio Oh sì Io andriaco, clean to time Salute Ma raga, te lo giuro sto quasi a 20 Dai, io, non è stupido Ma veramente sono un team Basta, noi, dai, non è stupido Io non li vedo, è un joke Mi serve un WAD, è un f***ing joke, man Sono tutti allo sconfermi, raga Minchia, vabbè, avete rotto due quarti di minchia Era una parità divertentissima, rovinata da bastardi Vabbè, dai, insomma Ma come alert, c'hai io Io, Matteo? Come alert, Matteo che si incazza perché tipo Donald gli tocca il pisellino Ancora c'è quella cosa là E dire che dobbiamo fare qualcosa in offer in Ulimits, che dici? Rimaniamo così cringe Rimaniamo così cringe Che cambiare Dai ragazzi 20, 20, 20, ne mancano 10 Ne mancano 10 Basta, dai, dai Ho visto che Simone Sitori si è scritto la cup dei No Limits Non è una cup Comunque penso fosse un banter onestamente No, 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 l'ha fatto sicuramente, me l'ha mandato Bene Ma ho visto tutte le richieste, c'è un sacco di gente che gioca Ma quanti richieste avete in giro? Un pezzo di ricchiavato richiesta Ma quanti richieste avete in giro? Siamo per ora tipo a mille richieste Ma li avrei scarpati quelli che giocano già a code No, vado tutti il provino No? Sì, chi lo passa gioca Non è che... Quale finisce la partita? Fanculo va, fanculo va Mi stavo cagando sotto No Diego Quanto sei in serie? 20, sono esattamente a 20 Porto giù da che spavento Cazzo è 170 Zenicon, non hai capito? È finita ormai, devi muoverti A 200 finisce? Sì No, aspetta, forse è 250 Vieni, sta 250 Sì, sono troppo chiusi, devo muovermi Però sbrigati, sennò va a finire male Grazie, è beno Mirko Sì, ma non riesco a farli uscire Se fossi morto col danno da caduta, madre mia Stanna li matte, stanna li matte, dai che sei un cazzo di... Dai, che cazzo di misti La parità Ocean è diventata, eh Oddio, sto muorendo It's not even fun anymore Non morire, eh Non morire, mi raccomando Eh riga, ma doveva anche... Doveva un altro... Un altro server Doveva anche trovarli, capito? Non di cagliari... ...franco Non capisco dove stiano spawnando, Matt Ah, ma su, ti lassù Prendiamo alpha Dove è che stanno? Unchia Continua a non ucciderli C'è un cecchino? Non posso challengerlo Come dobbiamo faccargli lo spawns? Eh riga, mi sembra una bandiera in mezzo Bombardamento di precisione alleato, attenzione Guarda quello là? Che palle ho Ho rotti i coglioni però, eh Era così bello prima che... Ho ne visto uno No, è un nemico Lo fanno Puttanata Si sente? Camper di merda Guarda dove è? Mi soffi... Mi soffi... Criarmi... Ah si si si, me la link così Ma che è sta cosa, dai Come over Beh ma picchè ninja cat cattura gli spawns No vabbè non ci credo Nico quanto ti manca? Eh 10 kill Inizio missione Non stai più killando da quanto? Eh da verbo Ho un caro da madronanti anche Che palle ho Abbiamo preso alfa Basta Non p... io non ne sto toccando Guarda no Però matta anche tu Perché l'hai presa adesso? Sì 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 Quanti secondi per prenderla? Martuno 21 La prendono la prendono No Tutti li sta uccidendo No No finita Finita non ce l'hai Non ce l'hai Si credo 21 Eh ho capito Però se minchia c'è anche Marte che i squadri non li fia le bandiere Che cazzo dobbiamo fare? Ha preso a lui 22 22 22 22 Capito Nico? Eh che palle raga Che palle Va bene però Non è stato giusto A me è matta e mi sta arrabbiato molto Bella Beno Mirko 53 kg ho fatto Sei un cazzo di bestiore Mi hai preso anche le streak d'assalto No non le ho tirate Solo di armi? Solo di armi Porca puttana Ma stavi cecchiniando come un porco No ma non ho capito questo Eh io faccio un buon Io faccio giro con quest'arma Non ho capito quanto è forte Cioè Che arma è? Le 4 con quella cosa lì Non si muove